Buongiorno, bentornati sul canale, nuovo video, nuovo paese Siamo entrati in Georgia Adesso facciamo subito la sim per avere i dati e poi dobbiamo andare a Tbilisi perché dobbiamo richiedere il visto di transito russo e incrociamo le dita Allora, abbiamo fatto benzina, abbiamo pagato 1,09 euro al litro abbiamo anche fatto la sim, 14 euro da Magdi per internet illimitato Allora, oggi giornata veramente impegnativa abbiamo passato tutto il pomeriggio a cercare qualcuno che ci facesse la traduzione di due documenti della patente di Marco e del libretto del camper in russo questo viene richiesto per chiedere il visto di transito russo ma non abbiamo trovato ci abbiamo camminato in lungo e in largo siamo passati tipo da 6-7 uffici notarili e niente solo una ci ha dato una risposta però vogliono prima tradurlo in giorgiano e poi in russo quindi bisogna pagare due traduzioni e voleva farci pagare 100 euro anche no c'è veramente la patente non c'è niente da tradurre c'è solo il nome e cognome e delle date domani riproviamo abbiamo trovato altri uffici che lo fanno perché il problema è che molti non hanno dei traduttori italiani e quindi non possono farlo perché deve essere certificato da un notaio perciò niente adesso usciamo da qui che non ce la facciamo più speriamo di passare una buona nottata e poi ripassiamo di qua domani mattina sperando di riuscire a trovare un ufficio che ci traduca questi documenti altrimenti non possiamo andare avanti nel nostro viaggio primo tramonto qui in Georgia molto sofferto perché stiamo veramente impazzendo a trovare un posto per dormire infatti come tutte le grandi città hanno le loro problematiche adesso siamo arrivati al memoriale non sappiamo neanche come si chiama perché è il primo parcheggio che abbiamo trovato però è bellissimo speriamo che ci lasciino stare perché non sappiamo dove andare non ci sono campeggi non c'è un cavolo quindi anche se ben volessimo pagare non c'è niente però c'è un bellissimo tramonto e qua dietro c'è una struttura che sembra quasi un... è pazzesco è enorme è bellissimo veramente poi con la luce del tramonto è veramente molto bello andiamo su e poi basta ci facciamo più è impressionante non ho mai visto una cosa così è pazzesco dai Tbilisi si è fatta perdonare cioè più o meno cioè più o meno che oggi veramente abbiamo visto i sorci verdi come si dice caldissimo veramente caldo dopo un paio di giorni che eravamo in Armenia nel verde arietta fresco bam siamo entrati in Georgia caldissimo proprio affa senza aria però quindi volete il caldo? adesso ce l'hai domani alle 10 andremo a cercare l'ultima possibilità se no dovremo pagare 100 euro sì perché comunque dai ci aggiorniamo domani allora la nottata credo peggiore di tutta la nostra vita in camper fino alle 4 del mattino gente che sgommava che facevano le gare con le macchine gente per lì che corrava fuochi artifici sì fuochi d'artificio sopra il camper ma era tardi quando l'hanno fatti tipo era l'una e mezza così non lo so e niente adesso facciamo colazione poi speriamo di trovare un posto dove tradurre sti fogli allora oggi giornata lunga a Tbilisi secondo giorno nella capitale ce l'abbiamo fatta trovare uno studio notarile che ci ha tradotto la patente che ci tradurrà che ci tradurrà tanto abbiamo pagato quindi poi vedremo però siamo riusciti comunque a trovarlo il prezzo li hanno gonfiati quindi abbiamo trattato un po' ma comunque per tradurre il libretto della macchina e la mia patente abbiamo pagato circa 85 euro però non potevamo fare altro perché devono tradurlo due volte dall'italiano al giorgiano e dal giorgiano al russo perché il notaio altrimenti non può mettere lo stampo perché non conoscendo le lingue non conosce l'italiano e non può quindi comparare la traduzione russa con il foglio italiano quindi giustamente ci sta però altri viaggiatori hanno speso tipo 35 euro un mese fa e non hanno dovuto fare doppie traduzioni però sicuramente c'è tanta gente c'è tanta richiesta e quindi stanno alzando i prezzi noi comunque non è che ci siamo fermati al primo cioè siamo andati circa in 12 12 negozi di studi uffici il fatto che poi questi studi sono all'interno di appartamenti normali quindi in cima a un condominio una porta a caso trovi l'ufficio no ma voi non potete immaginare ma chi è quel che ha immaginato gli indirizzi le vie di Tbilisi cioè è pazzesco pazzesco c'è lo stesso numero ce l'hanno 4 5 palazzi e sono altissimi c'è non ci sono campanelli non c'è niente io non so come fa il postino no c'è da spararsi non lo so se fossi un postino qua e niente oggi ci siamo spostati per la notte mai più stare in città ieri ieri abbiamo non volevamo fare troppi chilometri perché sapevamo che questa mattina dovevamo tornare in centro però mai più adesso abbiamo guidato mezz'ora eravamo già abbastanza il camper l'abbiamo lasciato abbastanza nel periferia abbiamo usato la metro che è pazzesca va velocissimo è veramente molto economica abbiamo speso praticamente un euro per avere il biglietto tutto il giorno in più si pagano circa due euro per avere la tessera e poi tutti i giorni che serve la si ricarica quindi molto molto ben servita con la metro e invece stasera ci siamo spostati e siamo venuti fuori Tbilisi a nord vicino a due monasteri qua c'è un parco dove oggi non c'è nessuno per fortuna perché stanotte alle quattro alle quattro facevano i fuochi artificio in centro Tbilisi no peggiore notte ed era lunedì eh cioè immagino il sabato e il domenico vabbè comunque qua sembra carino siamo in cima a una collina quindi vediamo una bellissima vista e abbiamo anche comprato il pane georgiano uno ce lo siamo già mezzo magnato ma questo guardate che meraviglia è la forma tipica del pane georgiano questo l'abbiamo pagato un lari e trenta che significa circa quaranta centesimi è enorme guardate ed è veramente buono profuma un sacco e ce l'ha dato caldissimo quindi fresco fresco e niente adesso speriamo veramente di poter dormire ci facciamo una bella doccia abbiamo caricato l'acqua e niente domani vedremo se la traduzione è pronta facciamo vedere il posticino che abbiamo trovato qua abbiamo le montagne questo qua sembra sembra tranquillo se non viene nessuna coppietta stasera a disturbarci abbiamo trovato forse un posto giusto ma buon andiamo a farci una doccia e a mangiare perché siamo distrutti cioè le città veramente ci spolpano quindi ci vediamo domani e buonanotte abbiamo trovato questo posto che vi abbiamo fatto vedere ieri oggi sono arrivate un po' di famiglie a fare picnic e ci siamo uniti anche noi perché ci hanno chiamato per mangiare un pezzolo all'inizio sono stati i bimbi ad avvicinarsi piano 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 hanno iniziato passando a dire hello hello poi dopo io gli ho risposto e loro hanno iniziato a dire what's your name però faceva troppo ridere perché camminavano guardando dall'altra parte dicevano what's your name così poi allora mi sono girata verso di loro ho chiesto il nome a tutti e poi dopo loro sono andati dalle mamme c'erano praticamente solo le mamme a dirgli che avevano conosciuto degli stranieri poi sentivamo che dicevano Marco Sofia così allora poi l'unica che parlava inglese è venuta ci ha invitato a pranzo con loro e allora abbiamo mangiato un po' con loro abbiamo giocato un gioco un po' simile a palla prigioniera poi mi hanno braccato a ballare sono stati molto carini poi ovviamente ci volevano lasciare tutto il cibo che c'era in tavola e se no siamo solo in due il nostro frigo è piccolissimo e allora ci hanno dato un sacco di muffin e delle tortine di carne e sono stati molto molto carini abbiamo fatto foto video tutto e adesso siamo orientati in camper per compilare la modulo di visto di transito per la Russia infatti la traduzione ci hanno chiamato che è pronta dove ogni mattina andremo a Tbilisi prima per fare le fototessere perché ogni paese è santo cioè non si possono mettere d'accordo sulle misure delle fototessere niente tutti differenti quindi dobbiamo rifarle un'altra volta e vabbè poi faremo l'assicurazione anche nello stesso edificio per assicurazione sanitaria che è obbligatoria e niente poi prenderemo le traduzioni le porteremo all'ufficio pagando profumatamente perché questo visto costa bello caro vi faremo sapere poi però incrociamo le dita speriamo che ce lo diano perché senza questo non c'è altra opportunità per continuare questo viaggio o per raggiungere l'istan perché l'Azerbaijan pochi giorni fa ha rinviato l'apertura come si sapeva già ad ottobre tanto non apriranno neanche ottobre quindi non c'è modo per raggiungere l'Uzbekistan in Kazakistan se non attraversando la Russia se no potrebbe andare in Iran prendere un tour guidato attraversare il tour Manistan ma anche lì molto costoso molto costoso sono soldi non accettano tutti anche se richiede il visto turistico caro anche quindi speriamo perché se no dobbiamo aspettare il carnet non vorrebbe dire veramente fermare qua il viaggio per parecchi mesi quindi siamo un po' in ansia anche se questa pausa con i bimbi è stata molto carina molto è stata davvero una pausa non ci abbiamo pensato per una buona oretta poi siamo fuori Tbilisi quindi si sta veramente bene oggi temperatura c'è una rietta fresca abbiamo messo l'amaca abbiamo aperto il tendalino abbiamo fatto il bucato abbiamo fatto tutto oggi è proprio una bellissima giornata oggi buongiorno dal traffico di Tbilisi siamo usciti dalla metro adesso andiamo a prendere la traduzione e poi voliamo in agenzie avisti questo alle mie spalle è il Parlamento è bellissimo imponente siamo appena usciti dal centro visti russo 161 euro a testa trociamo le dita speriamo in bene in teoria in 5-6 giorni lavorativi dovrebbero dirci qualcosa è bellissima Tutto molto storto, però non è molto carino. Questo è il Ponte della Pace. Allora, dopo una bella birra rinfrescante abbiamo mangiato i ravioli tipici e l'ai ad qualcosa, lo scriviamo qua. Calzone con formaggio e uovo. Molto molto buono entrambi, ci hanno anche insegnato a mangiarli perché i ravioli si devono prendere dal gambo, il gambo non si mangia, si fa un piccolo foro, si succhia il succo e poi si mangia. Quindi noi non lo sappiamo, io subito tram, tagliato e tutto il succo fuori, perso. Come sapete non siamo amanti delle grandi città, quindi dopo una breve visita nella parte più antica di Tbilisi scappiamo nella natura. Ragazzi, ma che spettacolo è questo posto, è incredibile, veramente. Allora, siamo al Paravani Lake, posto veramente, veramente spettacolare e purtroppo però dobbiamo andare via perché è tutto fangoso, perciò è impossibile trovare un posto dove non rimanere piantati. Però c'è un profumo proprio, mi sembra di essere sulle mie montagne, è buonissimo e niente, andiamo verso Suda ancora di più. Benvenuti a Varzia, una meraviglia storica situata nelle profonde gole della Giorgia. Varzia è un monastero rupestre, incastonato nelle pareti di una gola. Ha una storia che risale al XII secolo. Fu costruito sotto il regno di re Giorgio III e sua moglie, la regina Tamara. Allora, abbiamo iniziato la nostra visita al monastero di Varzia. L'ingresso costa 15 lari, ovvero 5 euro. Bisogna salire per un bel po' prima di iniziare la visita, quindi mi raccomando, ricordatevi l'acqua e il panorama è pazzesco. Allora, ricordano tantissimo la Cappadocia, forse anche perché ci troviamo abbastanza a confine con la Turchia, quindi siamo vicini. Come al solito questi sistemi di cunicoli sono super interessanti, ci sentiamo sempre di nuovo bambini a percorrerli e a cercare di non perderci anche. Questa era la Torre Campanaia che dettava l'orario per tutti gli abitanti del monastero e scandiva anche le attività della giornata. Avevano anche l'acqua termale e si trova di fianco alla chiesa, veramente molto carino. Si arriva attraverso questo tunnel di pietra, quindi è molto intrigante. A me piacciono questi luoghi così un po' misteriosi. Vicino alla chiesa presenta anche la parte tombale, si trova veramente all'interno della roccia, quindi incredibile. Continua ad essere incredibile come hanno costruito tutto ciò. Sempre più intrigante, sempre più stretti i cunicoli. Adesso stiamo andando verso il rifugio, così c'è scritto nel cartello. Vediamo. Allora dopo questi tunnel si arriva in questa stanza, probabilmente era il rifugio, il rifugio che veniva utilizzato magari in caso di attacco. E adesso c'è scritto che si va alla cantina, perché il vino non manca mai. Se rimanevano bloccati almeno c'era una cantina per... Beh, furbi è, furbi. Dopo aver lasciato Tbilisi, finalmente possiamo fare un po' di turisti. Siamo in questa valle che è meravigliosa e ci stiamo già innamorando della Georgia. Purtroppo, speriamo, ci staremo poco perché questa settimana dovrà arrivarci il visto di transito russo, però cercheremo di questi... Visitare il più possibile, cercheremo di non riposarci e di visitare solo perché se è tutta così ci faccia la firma. Stupenda e questo monastero è veramente incredibile, per ora non l'abbiamo visitato, veramente solo un pezzettino ma è enorme. Allora adesso bisogna tornare giù e guardate che bella scala ripida. Marco, prego. Non è un taboga. No, non c'è un taboga. Allora qua c'è una parte in cui ancora vivono, quindi è chiuso i visitatori giustamente e quindi ci sono... abbiamo visto prima due monaci qua che si stavano godendo il panorama e che panorama. Questa è una wine cellar, infatti... Ci vedono ancora le antiche anfore che sono rimaste piantate nel terreno. Infatti i georgiani fanno il vino proprio nelle anfore, quindi... Qua è nato il vino. Esatto, una tecnica molto speciale, ma speriamo di conoscere un po' meglio questo aspetto della Georgia e trincare anche qualcosa. Qua mi sa che qualche pietra è andata giù. Qua c'era un passaggio, ora è chiuso. Forse è meglio che me ne vado da questa parte del monastero. Ieri sera abbiamo dormito proprio in faccia al monastero, in uno spiazzolo davanti che c'era anche un panchino e tutto. Abbiamo fatto un piccolo barbecue. Era un po' che non mangiavamo carne alla griglia. Armando ha fatto una grossa spesa e abbiamo passato una bella serata in compagnia. Allora oggi proponiamo in venita un bellissimo open space. Con vista. Con vista, guardate che roba. Guarda che terrazzo che c'è. Terrazza. Quanto me lo vendi? Eh, c'è qualche lavoro da fare. Pavimenti, impianto elettrico. Se ti accontenti di una torcia, il pezzo del biglietto dai. Allora, vi diamo giusto due numeri. Wikipedia dice che questo monastero aveva 6.000 stanze disposte su 13 piani. E se li possono visitare solamente 3.000. Direi che è già un numero abbastanza enorme. E in più avevano tutto un sistema per proteggersi dagli attacchi dei mongoli. Come abbiamo visto prima il bunker collegato alla vineria. E proprio anche per entrare nella città c'erano pochissimi tunnel. In modo da averne il numero minore possibile da proteggere dagli attacchi dei mongoli. Quindi, infatti, adesso stiamo proprio scendendo dal tunnel segreto che vi abbiamo detto prima. C'è una piccola chiesa e poi si scende in un modo abbastanza nascosto dalla roccia e poi si torna al parcheggio. Allora, siamo tornati in camper. Adesso proviamo a tornare alla piscina perché un bel bagnetto ci sta. Anche se l'acqua sarà proprio bollente perché dicono che è 40 gradi. Ci proviamo. Allora, siamo nella piscina. Abbiamo pagato... ho pagato 10 lari che sarebbero circa un po' più di 3 euro. L'acqua è 40 gradi, sulfurea. In teoria ha dei poteri curativi. Vediamo. Sicuramente non bisogna starci troppo dentro. Comunque è molto particolare perché è una spa un po' diversa, un po' rustica. Con questo tetto tutto arrugginito, però è particolare. Allora, bagno fatto, però è veramente, veramente calda. Quindi siamo stati dentro 5-10 minuti. Poi siamo usciti fuori perché ci gira la testa perché è troppo calda. Quindi... e poi dobbiamo ancora mangiare. Quindi magari li so. Mangiamo pranzo e poi torniamo a farci un bagnetto. Io non l'ho fatta. No, che Sofia la faceva la trovo. Sì, c'è un po' dei problemi con il caldo. Quindi ho evitato. Gli ho guardati mentre facciano il bagno. Comunque sembra brutta, però ha un suo perché. Perché è veramente particolare. Non lo so. Ha il suo perché, diciamo. Abbiamo salutato Armando e Mel e noi ci siamo spostati sotto il monastero per fare pranzo. Abbiamo guardato un po' i prossimi luoghi da visitare e abbiamo trovato delle belle chicche. Se vuoi scoprirle iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Alla prossima avventura! Alla prossima avventura!